L'esperienza che unisce. Oltre 30 ragazzi e ragazze hanno partecipato al campo delle superiori che quest'anno si è svolto tra Cassego e Rimini. A fianco le feste per San Venerio, martedì 13 settembre, ricorre la festa di San Venerio Abate, patrono del Golfo della Spezia, oltre che dei Guardiani di Faro. Trovate tutte le celebrazioni previste. A centropagina 8 settembre, nelle vallate del territorio, si prega Maria, per appunto la solennità della Natività di Maria. Trovate anche in questo caso tutte le celebrazioni previste. E a fianco Don Davide, venuto dal Brasile. Lo scorso 25 agosto, festa di San Genesio nella parrocchia di Romito Magra, ha celebrato la messa Don Davide, ordinato prete pochi giorni prima nella cattedrale di Brasilia. E questo perché la sua vocazione è maturata anche a Romito. A fondopagina si è spento a Sarzana il fisico professor Emilio Doni, austero e rassicurante, era un'immagine della città. Negli anni 90 era stato tra i promotori delle iniziative per rilanciare gli studi sulla figura del papa sarzanese Niccolò V. Queste le principali notizie che potrete leggere domani su un inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.